Salve a tutti ragazzi, benvenuti dopo tanto tempo ad una nuova mappa morte, attenzione è una mappa natalizia che si chiama Lastra e Sorte, come state vedendo in questo momento, siamo su una mappa che praticamente è stata fatta con i cubi di Minecraft, attenzione loro perché non sappiamo nemmeno gli zombetti come sono, comunque qua c'è il fucile a pompa, qui crea vibe, qui che ce lo prendiamo subito, ecco loro da quanto tempo che non giocava le mod, mi fa strano, soprattutto con il controller della position 3 che non toccavo da anni, con due colpi, con un colpo ammazza sto coso, moch, che moch, ecco qua, ecco qui, facciamo un colpetto alla gambina, ehi che cavolo fai, oh è morto, comunque vabbè, siamo in questo mini recinto, dobbiamo aprire 750, guardate un po', sta pure la mongolfiera volante lì, non si capisce bene che cos'è, vabbè, vediamo un po' ragazzi com'è questa mappa, se vi state chiedendo perché si sente così il video, è perché sto usando il microfono, sempre quello solito della webcam, che tanto a polpa dovrò cambiare, quindi non vi preoccupate, purtroppo a me non mi ingozzava a mettere il microfono, quello del cellulare perché mi toglie altro tempo, vabbè, attenzione che, perché qui proprio siamo al limite, guardate, scavalcano e muoiono, capite, apriamo la porta, ok, qua stanno dei pacchi di lagare, che ci sbarrano lo strano, vediamo qua dietro cosa sta, sta questo coso strano, dove non possiamo camminare, vediamo un po', mille per salire di qui, qui c'è lo scaracca, mille punti, questo che cos'è? non ho capito che cos'è questo, attenzione, il juggernaug laggiù, vediamo invece di qua, obiettivo non completato, perché di qua dove si va? Quindi ci sta una specie di piccolo estereic, dobbiamo stare attenti, guardare bene di che cosa si tratta ragazzi, qui, no niente, non si può salire, però si vede, si vede un minecraftiano, e qui c'è, c'è uno che cos'è? pensavo si potesse aprire questa porta, vabbè, vediamo i nemici che adesso vengono, tutti arrabbiati in loro, ecco qui muoiono tutti quanti, fai cacca, fai cacca, fai cacca, fai cacca, ah, oh, no, andare dietro, non va, 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 ma dove, it's really rain, ma che cacca? sono andata via la cassa, attenzione perché io qua non so come driblarli, ecco faccio così, vi butto una granata a sorpresa, ok, e mi compro lo scaracca, ragazzi questo controller è tutto proprio vecchio questo controller della PlayStation 3 che sto usando per giocare, vediamo un po' dove vogliamo aprire, apremo per di qua, vediamo cosa sta qua dentro, una porta da mille, qui ci stanno i maleretti, ecco vedete, un altro, dovrei comprare il, che cos'è? Una bibita data gratis, una bibita gratuita, che cos'è? Che cos'è? Ah quella per correre più veloci, oh merda, oh merda, oh merda, 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 uh, mi sono salvato come non si capisce proprio, non lo so, non lo so nemmeno io, veramente qua, non è facile sta mappa le mozze, eh, mi aspettavo una cosa più sempliciotta, però vediamo dove altro ci combina da figlio, vediamo qua, bomba, che cosa c'è? La spada di Minecraft, il piccone di Minecraft, il phd flopper, qua giù, oh, che cosa sta qua sotto? Delle gallerie, oh, un portale, è un portale questo, qua non so che cazzo, oh, 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 mi sono dimenticato di prendere, mi sono dimenticato di prendere il, qua ci muoio ragazzi, già ve lo dico, oh merda, 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 aiuta, 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 oh, no, riavvio subito, che cavolata, proprio, inculato giù nella scala, perfetto, compriamoci di nuovo il quick ray, vai, dobbiamo fare una buona partita, ragazzi, ovviamente con questa grafica qui, io vado a 200 fps al secondo, cioè più di 600 fps, proprio le divano ancora di meditare, proprio assurdo, ecco, e muoiono come niente, due colpe alle palle e i castri, così, ovvero, ora devo per forza fare la strage, ecco, sì, vabbè, prendiamoci sto fucile a pompa, il KS-23, strano che l'abbiano messo in abbastanza iniziale, perché so che questo è forte, vabbè, ora vediamo, questa volta voglio andare su, voglio andare su, dobbiamo trovare la corrente, vabbè, aprire anche le varie, vado, la bibita gratis, devo aprire assolutamente, ok, con due colpi dovrebbero morire, sì, boom, boom, speriamo di prendere quella bibita prima che sparisca, che cos'è, beh, che cos'è, oh, cosa? non mi ha dato niente, no, perché stavo ricaricando, no, che palle, avevo preso, che rotule di scatole, no, questa non ci vuole, quindi non bisogna ricaricare mentre si prende la cosa, altrimenti si perde potenzialmente, mi chiedo quindi quante bibite ci siano, se si possono prendere così facilmente, vivite, su questa natta, vedi questi, questi due morti, tutti e due, uno sovrapposa all'altro, guarda questa, vabbè, la bombetta la prendiamo, vediamo se ci dà 800 punti, sì, lì da, lì da, eccoci qua, c'è pure il castello, ah ma stiamo dentro un castello, munizione a massimo, un minecraftiano, 1200, 1250 punti per aprire le vittime, qua cosa c'è, un lampione, qui è chiuso, è chiuso qua, va bene, ecco lui, boom, cioè non è decapitato, poi non lo so perché, qua perché non si apre, perché bisogna parlare con il minecraftiano, forse, vediamo, guardate un po' che altro sta di qua, apriamo, parliamo con lui, beh, che che, no, ma che cosa, perché non ha aperto, non avevi punti, comunque non è facile, oh, mi fa fare, mi fa guadagnare i punti dalla morte, è assurdo, apri il cavolo, oh, bravo, bravo, hai aperto la città, hai aperto la città, ma allora ragazzi fa strano, guardate la casa stalla, fa strano usare questo controller tutto scivoloso, mamma mia, poi non si rompono i coglioni amari, hai sentito, non si rompono i coglioni amari, con tutto rispetto, oh, dove vai, oh, di qua si apre, mille punti, questa mappa è fatta molto bene, per essere una mappa natalizia e perdi più di mai, oh, la bomba, io voglio andare giù, come si fa da andare giù, perdi qua, 1250 però dovrei fare, dovrei prendere un'arma, dovrei prendere lo scaracca, che lo scaracca è buono, andiamo di qua, dove vai tu, dove vai, tu, eh, oh, oh, ah, devo prendere, giustamente il quick live, devo prendere il quick live, perché in singolo ragazzi vi ricordo che il quick live vi auto rianima, vi auto rianima se morite, però potete utilizzarlo solo tre volte, potete comprarlo solo tre volte, dopodiché scompare e vi lascia praticamente, mi lascia proprio male, oh, vado, il lampione mi bloccava, vivita, cos'è, sembra quella è, andate tutti a cagare, prendetevi sta granata, dai che avrò fatto lo zoppo forse, non so perché non ha fatto lo zoppo, vediamo, no, vabbè, adesso, oh, qua c'è lo stand, che armai è lo stand? Tipo il tipo 100, tipo il tipo 100, eh, sta lo zoppo, perfetto, e nuovamente andrà a prendere il quick live, che sta sempre acceso da quando si giocherà solo, invece le altre bibite bisogna aprirle, bisogna accendere, vedete? Sta spento, che sta spento, ah, se vi abbassate, vedete, vi da 25 punti, qui ne da 25, invece su Black Ops 3 ne da 100, qui giù, non, vabbè, è inutile andare, eh, no, ma che, no, e dai, ma non ci posso credere, io, io mi sono andato pure incastrato, sì, è morto pure, vabbè, mo, abbiamo buttato, ci sono bruciati, un altro quick live, mo se ne andrà a cagare, vediamo, speriamo che, oh, è rimasto, meno male, è rimasto, siamo andati a buttare un quick live, e poi si, a cavolo, apriamo di qua, i fiorellini, molto carini, qui ci sta una capanna, la capanna di Gesù Cristo, passiamo da qua sotto, qui sta la stamina up, che giustamente abbiamo perso, questo che cos'è? Ah, qua sta il vuoto, vabbè, questo cos'è? L'UMP, qui c'è una torre, qui c'è un'altra cassa delle anime, e qui invece mille per andare nella zona dove sta il calcio del muro, qui c'è un pacco regalo che non si apre, qui lo stand, di muovo, di muovo lo stand, 1250 per andare di qua, chissà se si può raggiungere però un colpire laggiù, dov'è l'ultimo? Sta qua, Yahweh, Yahweh, chissà quanto resisterò, no, con il KS23 o Scarak con due colpi, cioè proprio messo male, che messo male, vediamo da dove escono, uh, dov'è, dov'è, uh, no 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 no, no no, no no, che? Che non è morto subito, ma muoiono proprio un po', a me, aiuto, me la vedo brutta la storia, aiuto, 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 del tempo di tante bobo io ti do io ti do giro in cerchio proprio io 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 mamma mia lui come se li dribbla muore muore aiuta 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 ma quando ne stanno eh madonna 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 c'è un per due 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 strage 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 3.000 punti solo 3.000 eh io però sono messo male male quindi compriamo questo lo stem un mini pene è questo una cassa di sé, ma apriti finocchio, quello che è attenzione, qui c'è la speedcola qui ci sta un gruppo di tronchi che mi sbarra la strada, i tronchi quelli che si mangiano, attenzione veloce, mamma mia dove sta la corrente la corrente, dove, dove è la corrente dove è la corrente no, qui è chiuso via stava la bomba là prendi tutto è finito un altro round dov'è la corrente? dove? mamma mia, che cosa brutta quando, uh non trovi la corrente cioè adesso non so veramente dove aprire, devo guardare meglio che è? 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 uh, è arrivato il momento di radunarli radunare loro aiuto il vero danno è quando ci sono i lenti e corrono assieme i veloci aiuto 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 No, no, la corrente. Ah, cheese. No, 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 no. Nemmeno le anime raccolgo. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ma non, ma non perché non... Non è possibile che sto coso non prenda le anime da qua. C'è la bomba però non la prendo perché sono due tuoi. Ci sta la bibita? Né! Che culo! Il Juggernaut! Guardate un po' come l'ho avuto. Non morite tutte e due se non mi incavolo. Ok, non mi incavolo, basta. Prendo la bomba pure. Prendo il teschio. E adesso... Adesso è dura. Devo esplorare ancora di più la mappa. Vediamo che altro posso scovare. Questo se ne va a cagare. Ah, qua si è aperto un'altra... Qua cosa sta? Qua sta una chiesa in questo. Le Sacre Cure di Christopher Club. Oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, attenzione, 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 attenzione. Andate via, via, via Della mia città Mia città minecraftosa Questa è la crisi La crisi del Sacro Cuore di Gesù 5.000 punti 5.000 punti e non so Dove si deve andare Si può andare da dietro Sì, perfetto Eppure ci deve essere Un metodo, qua si è andata via la casa delle amme Ci deve essere un metodo per fare Per continuare Giro, giro No, mi faccio un po' di questi Questo mo' faccio pure Un po' di coglioni Vai via 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 Brutte notizie Se adesso mi prendono Mi mettono in un angolo Mi culano, ragazzi Bene, devo prendere Oh Devo prendere Un'arma dalla cassa Chissà se ci sono armi speciali su quest'arma Veloce 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 Che cos'è? Backdoor 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 Ok Facciamo un'altra Le scimmie Perfetto Le scimmie Vediamo se si può aprire la porta di qua Vediamo se esiste qualcosa No, non c'è niente Oh Aspetta Ecco qua Dribbling Andiamo ad aprire dove L'ultima porta che non abbiamo aperto Che è Ma secondo me Ma secondo me si può andare Chissà che cos'è quella mongolfira là sopra Apriamo di qua Beh Qui a parte ste cose Cosa sta? Niente Niente Non ci sta niente 25 punti Vabbè A parte sta Sta cassa qui Aspettate Forse bisogna fare tutte le casse Per proseguire E però è così E' brutto Perché La corrente Scusate Poi come si fa? Uno deve starsi a fare tutto quel casino Qui è chiuso Abbiamo aperto tutto Davvero Qui non si apre Una casetta spastica Qua la chiesa E l'abbiamo visto Ah ecco Ecco E non l'avevo visto io prima Guardate un po' come lo sono andato a vedere io Accendiamo Beh Ora il problema è che Un'arma buona devo trovare L'abbiamo aperto per tutte le zone E sicuramente si può arrivare al pack a punch Perché ci sta quella zona là Che diceva che non si poteva aprire ancora Butto una shield Andate là Bravi di qua Che cos'è? Balestra? Madonna 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 la balestra Oh no Non era adesso il momento di prendere un bonus No 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 Nooo Mamma mia Guarda che razza di momento No 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 Se non muoiono questo io muoio Stramuoio Muoio e stramuoio Andata a cagare Maledetti bastardi Ho perso Tutte le robe che avevo Non devo andare a riprendere tutto Eh Mi è andato pure a morire Veloce Veloce il quick revive Oh Non me lo fa più comprare No Ma che bastardo Che bastardo No ma che cagare No Ma ti rispondo No non posso nemmeno buttare la scimmia Ma vai a cagare Ma vai a cagare Ragazzi sta mappa è difficile Come non immaginate E sicuramente ci sta qualche altra cosa Su quell'altra zona Vabbè Usciamo Questa era una mappa natalizia E diamo i miei soliti voti Vediamo se magari si può mettere Ah niente A me ne sta così Ah bene Allora mettiamo Come grafica Mi piace Perché originale Metto 8 e mezzo 8 e mezzo Come difficoltà Difficoltà Metto 9 E gameplay Metto Vediamo un po' Metto 8 e mezzo Credo comunque che ci siano giusto altre cose Tipo il pack a pan Eccetera Chissà come si fa ad arrivare Bene ragazzi E finisce poi questo video Questa era una mappa natalizia E buone feste a tutti quanti Questa era una mappa natalizia Questa era una mappa natalizia E buone feste a tutti quanti Questa era una mappa natalizia E buone feste a tutti quanti Voi